Questa è l'ultima intervista del 2016 e Giuseppe ha preparato un regalo per voi che ci ascoltate. Lo troverete da scaricare sul sito vitadatrader.info da mercoledì 21 dicembre insieme all'intervista integrale. Nei giorni successivi nel blog ci sarà un approfondimento sugli argomenti di cui abbiamo parlato. Ho iniziato a fare trading all'età di 18 anni ma in realtà ho iniziato a studiare per il trading molto prima. Il filo conduttore era sempre dovuto al fatto che io avevo ancora quella scena in mente di mio padre che tornava a casa e avevo questa voglia di rivincita. I primi risultati erano stranamente molto positivi. Tanto da far triplicare il valore della borsa di studio nell'arco di 6-7 mesi. In quel caso il mercato mi aveva dato un prestito. Mi aveva dato un prestito col quale mi dava tra virgolette un'opportunità. Mi diciamo vediamo se sei bravo. Io adesso ti faccio guadagnare. Hai guadagnato molto. Ora dimostra che questi soldi te li meriti. Non me li meritavo. Questo è durato 6-7 mesi e si è spento in una settimana. Ricordo che neanche me ne resi conto. Non me ne resi conto perché probabilmente avevo raggiunto un livello di eccesso di confidenza perché non avevo ancora conosciuto la perdita. Il mio conto era quasi bruciato. È una sensazione brutta. È una sensazione brutta. È una sensazione che in quel momento provi di panico. Panico misto a delusione, misto a vergogna. Ho smesso. Ho però dovuto attivare dentro di me una completa destrutturazione della mia vita. Cioè io mi sono dovuto guardare allo specchio, guardarmi in faccia e dire tu non sei un trader. Tu non sai fare trading. Fu un periodo brutto, il più brutto della mia vita. Ne sono uscito fortunatamente. Ho recuperato tutto quello che avevo perso. Non sono più da almeno due o tre anni. Non sono più un finanziatore del mercato. Avevo capito che c'era qualcosa in me che non andava in quel momento, che mi impediva di capire perché sbagliavo. Avevo bisogno di convinzioni salde. Non avevo un maestro, non avevo una guida, non avevo nessuno che mi direzziasse. Era un caspita di autodidatta che ha fatto i conti senza l'oste. C'è un'armonia tra i prezzi. C'è un'armonia nei modi di pensare delle persone che si trasferisce nei prezzi. Tant'è che questa armonia mi ha portato a fare del tempo una delle mie principali componenti del trading. Ci devi mettere la testa. Ti devi fare il mazzo. Non si ha successo nel trading perché si ha un talento. Non si ha un talento innato o perché lo decidiamo noi. Lo devi volere. Per voler lo devi studiare. Io i risultati che facevo da quel momento in poi me li volevo meritare. Non li volevo attribuire alla Dea Fortuna. Io adesso ho 24 anni. Questo lavoro l'ho fatto per due anni. Ci è voluto due anni per dimostrare al mercato, a me stesso, che potevo non essere un suo finanziatore. Accontentati ogni giorno, lo fai ogni giorno, per un tot di mesi, anni. Piano piano recuperi confidenza, acquisisci metodo ed esperienza. E tutta una serie di cose che ti portano poi ad avere dei risultati costanti. Tu devi ricercare un equilibrio. A me ha aiutato molto anche la meditazione. Ho aiutato qualche giovemento perché è una pratica di vita, soprattutto. Che ti aiuta anche a essere più razionale nelle decisioni. Costruire quel foglio di calcolo con Excel mi ha aiutato molto a essere un pelino più accorto nelle scelte che faccio. Cioè è come se quella io avessi prolungato, proiettato la parte razionale di me su un foglio di calcolo. Io non posso prescindere dalla mia parte razionale. Quindi ne devo tenere in considerazione. La guardo, ok? Se so che sto per andare lungo sul DAX, ma quell'aggeggio che mi è costata tanta fatica, sudore, lacrime amare, tante lacrime amare, mi sta dicendo, occhio che potrebbe essere una cattiva idea, io ne prendo in considerazione. Perché quella roba lì è il frutto di tanto dolore che io materialmente ho sofferto. E non dare ascolto a quella cosa lì significherebbe per me buttare all'aria tutto quello che ho imparato da tutto quello che ho sofferto. Il problema principale di una persona che non chiude la posizione è che si sente traditrice di se stessa. Cioè io ho investito in quella mia posizione una parte di me, troppo aiutando su quella posizione una mia idea. In quella idea ci ho investito il mio tempo e ci sto investendo anche il denaro. Un binomio micidiale, tempo e denaro messi in un'idea. Io so che quando arrivo alla fine del mese devo almeno raggiungere un tot di budget. Cosa succede? In una settimana hai guadagnato? Benissimo. Quando hai guadagnato X, prendi quell'X e mettilo da parte. In un altro conto, come se non lo usassi. Quel tuo conto per te è la tua sopravvivenza. Vi ricordo che tutte le interviste complete sono visibili solo sul sito. Ci rivediamo a gennaio con Antonio Landolfi.